Benvenuti nel nostro sito. Siamo un'agenzia innovativa. Abbiamo sviluppato e concretizzato l'idea di instaurare una stretta collaborazione tra l'agenzia e i laboratori interni alle nostre sedi che ci consente di poter offrire alla clientela, ma anche ai dipendenti, un servizio che non ha uguali. Giornalmente 50-60 dipendenti lavorano all'interno dei nostri laboratori oltre 1.600 m2, eseguendo d'ordine per conto della clientela svariati lavori come ad esempio lavori di assemblaggio, montaggio, cernita, controllo qualità, rifinitura, regolazione, imbustamento ed altri lavori in quantità industriale e in tempi brevissimi. Se necessitate urgentemente di personale all'interno delle vostre aziende, non esitate. Contattateci e dopo 20-30 minuti dalla vostra richiesta, i nostri dipendenti saranno già operativi presso di voi. Una cosa molto importante che ci distingue e ci rende unici nel settore sta nel fatto che i nostri dipendenti al termine di una missione di lavoro non rimarranno senza lavoro, ma avranno la possibilità di rientrare nei nostri laboratori dove potranno continuare a lavorare in attesa di una successiva missione. I nostri collaboratori non sono dei semplici interinali, ma dei veri e propri dipendenti. Vi presentiamo i più diretti collaboratori e responsabili dei laboratori. Le segretarie sono a vostra disposizione dalle 8 alle 18.30 orario continuato. La direzione della 3P vi ringrazia ad averci dedicato alcuni minuti del vostro tempo e nella convinzione d'aver suscitato in voi un certo interesse, vi invitiamo a contattarci e nell'attesa brindiamo ad un nostro incontro.